Poi quasi al minimo storico, questi lunghi assolati giorni di siccità hanno portato alla situazione del grande fiume oltre i 7 metri sotto lo zero idrometrico, una secca che continua visibilmente a peggiorare. Le cause sono evidenti, giorni e giorni di sole e temperature che si urano i 40 gradi nelle ore più calde per una realtà che non riguarda solo Cremona ma tutto il nord Italia. Il record negativo fino a questo momento spettava il 2006, l'anno della grande secca, ma l'estate 2018 rischia di eguagliare se non superare questo record. E per i prossimi giorni non sono in vista cambiamenti, le temperature restano assestate su livelli africani mentre per un po' di refrigerio dovremo attendere la prossima settimana quando è previsto l'arrivo di piogge che faranno abbassare di conseguenza anche le temperature.